ora ragazzi secondo giorno siamo alla spezia sono le 11 siamo scesi e ragazzi oggi siamo appunto la spezia non so cosa visiteremo però per il momento questo è quello che vedo un po di cose dappertutto d'altronde questo quello che si vede appunto nei posti più o meno dove c'è il mare si vede proprio il mare comunque c'è un paesaggio bellissimo sono tutte le navi e così lontano e sinceramente non ero sicuro di voler scendere alla spezia perché comunque sinceramente effettivamente dai chi è che va incrocire vuole scendere la spezia anche perché mi si è anche strappata la spalla quindi questa spalla qua la spalla destra infatti se si vede qua una gobetta ma mi sono fatto proprio male 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 comunque raga oggi c'è un caldo infatti sono maniche corte però mi sono portato la felpa perché non si sa mai comunque ragazzi appunto oggi siamo qui e vi metterò ora una clip di del mare faccio una bella panoramica comunque ci vediamo appena ho finito più o meno appena vediamo un'altra cosa bella siamo ancora qui perché ragazzi abbiamo trovato un'offertura visto che abbiamo trovato un trenino che si gira più o meno tutta la città adesso prenderemo quello è il tipo visto che siamo comunque in 20 persone ha pensato adesso i bambini non li faccio pagare così andiamo tutti infatti siamo 19 persone e adesso appunto siamo andando tutti i bambini non pagano il trenino passa una volta in mezz'ora e adesso ragazzi vi lascio delle clip che appunto registrerò ora sul trenino magari non non l'iperlapse faccio video normale video di 5 6 secondi in modo che posso più o meno montarli tutti quindi niente ragazzi ci vediamo appena finisce il trenino va ragazzi appunto siamo appena tornati dalla spezia ora stiamo per risalire sulla nave non penso che posso reccare a mentre entro quindi ci vediamo dentro però era giusto una clip per avvisarvi comunque ci vediamo dentro appunto andiamo a mangiare pepe pepe sono le 1 55 e ora si va a mangiare poi si va in piscina e poi niente poi vedrete tutto almeno a prezzo ecco qua siamo già fuori incredibile ragazzi sono stanchissimo stati presto comunque questo è il nostro regno per queste settimane ma c'è un sole che spacca cioè non c'è sole ma fa caldo io sto con la felpa ma fa un caldo assurdo quindi ora penso che me la taglierò la felpa vabbè ma ci vediamo più tardi e fu così che marco si dimenticò di smettere l'ultimo clip scusate ci vediamo domani ciao